Aiuto! Caraggio! E non fare la stima! Ha paura di cadere! Tieni, prendi questo, Arnold. Non credevo di divertirizzare. Avete di più le gambe, ok? Voi dovete stendervi ai suoi piedi, abbracciarlo. Aggrappatevi bene alle sue ginocchia, ok? Toglile le mani, dai! Possiamo cominciare. Toglile! Sì, ma non dovete limitarvi a guardarlo. Abbracciatelo e cercate di essere un po' più sexy, eh? Beh, tu Arnold, piega. Piega quel dannato strumento. Avanti, bella. Gioca con i suoi capelli. Ok. Pensavo fossi più forte, eh? Niente di essere più appassionati, ragazze. Accarezzatelo con dolcezza. Sandy, potresti abbassarti un pochino? Sì, devi avvicinare la testa, cara. Così, va bene? Perfetto, bene, bene. Ok.